Buongiorno al dottor Claudio Saraceno da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi ragazzi parleremo di tumore, tumore e ipnosi. Ho ricevuto diverse richieste per capire se l'ipnosi, vera e professionale con la V maiuscola, possa essere utilizzata nei casi di tumore di cancro, sia per eliminare il dolore, sia per trovare anche la soluzione miracolosa, il miracolo della tua mente, se sia ancora in tempo, alla causa del tumore, che a prescindere da tutto, è tutto psicosomatico, almeno il 99%, che è per non dire il 90%. Che cosa voglio dire? Che ci sono casi scientifici nel mondo, come il dottor medico Carla Simonton, lo stesso Dave Hellman, lo stesso Milton Erikson, la stessa dottoressa Rina Brunini e il professor dottor Michelangelo Garai, che hanno risolto casi di tumore, o per eliminare i dolori, dove la morfina non poteva fare più nulla, o non era sufficiente ad eliminare i dolori, o per cercare insieme le medicine, la chemioterapia, che nessuno ti dice di abbandonare, ok? Però puoi utilizzare l'ipnosi in maniera complementare a ciò che utilizzi di solito, che il tuo medico ti ha consigliato, il tuo oncologo. Per cui se tu non sai nulla sull'ipnosi, ti prego rivolgerti presso un professionista della tua zona, oppure se sei in ospedale anche al professionista, al medico, chiedendo maggiori informazioni sulla parola ipnosi e sui medici che usano l'ipnosi, oppure psicoterapeuti, ma nel caso del tumore, sono soprattutto medici in Italia. All'estero possono essere medici o non medici. Considera il caso che tanti anni fa, lo stesso Dave Hellman, che non era un medico, da piccolino aveva il papà ammalato di tumore, con dolori atroci, e che nessuna medicina anestetico, analgesico, morfina, riusciva a allenire, a mitigare. Il punto di morte era un malato terminale. Al che sua madre invitò un ipnotista da spettacolo a casa sua, il quale in pochi minuti eliminò il dolore dal papà di Dave Hellman. E da lì questo ragazzino fu tanto preso, affascinato da questa situazione, che divenne uno dei più grandi ipnotisti al mondo, ed insegnò la sua arte anche a molti medici in America e a livello internazionale. Così anche Milton Erikson, che era anche un medico. Il dottor Carlo Simonton, che ha scritto molti libri sul discorso tumori, cancro e ipnosi. Ok? Per cui se tu ti trovi in questa situazione, lascia stare, come mi scrive qualcuno, sa, ma io non c'è la certezza matematica che possa sopravvivere, non è importante, anche ad eliminare i dolori. È una grandissima cosa. E poi mal dire mai al potere della tua mente. I miracoli, ragazzi, succedono ogni giorno. Ogni giorno che noi ne siamo consapevoli, oppure no. Per cui, non credere a me, approfondisci la parola ipnosi, cancro e tumore. Io ho avuto molti parenti ammalati e morti di tumore, come creda anche te. Però io da ragazzo non conoscevo ipnosi. Adesso la conosco. E ti posso garantire che una cosa non esclude l'altra. Quindi puoi continuare con le medicine, ma anche con il potere della tua mente, il potere della parola, il potere delle immagini, il potere di questa grande tecnica che si chiama ipnosi, che è un'arte e una scienza riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale come medicina alternativa nel 1958 e dalla Chiesa nel 1847 con Paolo Pianono. Fammi tutte le domande del caso. E poi che ti costa provare? Provaci, no? Trovo un professionista nella tua zona che può essere un medico, un psicoterapeuta, eccetera, e provo l'ipnosi. Naturalmente devi capire se questo professionista tratta casi di tumore. Non è che tutti adesso trattano casi di tumore. Ok? In Italia lo può fare solo un camice bianco. Se vai all'estero lo trattano anche persone non operatori sanitari, sempre collaborando però con medici. In Francia, in Spagna, in Germania, negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Fammi tutte le domande del caso. Visita la mia fanpage ipnosi, o che ipnosi dottor Claudio Saracino. Visita il mio sito internet www.iprolegiassociati.com Iscriviti a questo canale YouTube, benessere di pronosti e soluzioni di cesso, il dottor Claudio Saracino. Fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quella molla che ricambia la vita. E visita anche i miei profili Instagram e Twitter, benessere di pronosti e soluzioni di cesso, il dottor Claudio Saracino. Al prossimo video, un bacio e un abbraccio. Al prossimo video, un bacio e un bacio.